Amici sportivi del Mala, è appena terminata, per fortuna, è veramente terminata la gara di oggi del Gran Premio di Stira, secondo appuntamento sul circuito del Red Bull Ring in sole due settimane. E il primo commento da fare è quello riguardo alla debacle clamorosa da parte della Ferrari, se ieri già in qualifica abbiamo visto prestazioni molto confortanti, molto ironico eh, devo dire la verità, da parte della scudella di Maranello, beh oggi hanno raggiunto l'apice, ovvero hanno terminato la gara, entrambi i peloti Ferrari, dopo appena tre curve. Ma prima di commentare nel dettaglio quello che è successo, veramente clamoroso e non ci potevo veramente credere, quando ho visto il replay di quello che è successo è stato veramente, ero senza parole, ma comunque andiamo avanti col video, Prima di riprendere il commento alla gara di oggi, chi ancora non l'ha fatto molto male, ma chi ancora veramente non l'ha fatto deve mettere l'iscrizione assolutamente al canale YouTube del Mala, mettere un bel like e condividere il video con tutti i vostri amici appassionati di Formula 1 e come ultima cosa per essere dei veri, autentici e anche onorati amici sportivi del Mala, dovete mettere in like anche le mie pagine social di Twitter, Instagram e Facebook, qua sotto in descrizione trovate i link dove potete accedere alle mie pagine social. Allora, vi dicevo all'inizio del video che la gara della Ferrari è terminata dopo tre curve, con un colpevole Leclerc che a sto giro è un pochino quello che ha fatto il casino, bisogna essere onesti, purtroppo va bene che ha la gomma più performante alla partenza, va bene che è più aggressivo, va bene che in questo anno e mezzo abbiamo capito che è nettamente più forte rispetto a questo Fettel qua, però andare in curva tre così deciso e così aggressivo a tentare un sorpasso kamikaze, mi viene da dire che insomma poteva aspettare. Ecco poi, per come è andata la gara di alcuni piloti, secondo me poteva veramente aspettare, tentare il sorpasso in un'altra occasione e non distruggere sia la sua gara ma anche quella del proprio compagno di squadra. Il momento chiave ve l'ho messo nella foto di copertina del video con Leclerc che appunto tenta questo sorpasso a kamikaze in curva tre, purtroppo per evitare il contatto va veramente dritto sul cordone interno della curva e ahimè col posteriore colpisce l'ala posteriore della Ferrari di Fettel e poi si danneggia anche il suo fondo e quindi di conseguenza 1-2 ritiro dopo neanche un giro di gara. E questa cosa farà molto riflettere in tutta la scuderia perché insomma è imbarazzante, è veramente imbarazzante, già ieri era imbarazzante il fatto che la Ferrari non è neanche stata protagonista della qualifica se non in negativo. E che dire, io spero veramente che dall'Ungheria da settimana prossima arriva un pacchetto decente che ristabilisca un secondo il valore in campo della Ferrari in questo mondiale però insomma però al momento si può dire un progetto fallimentare, non c'è altro da dire. E vediamo un po' come va fra sette giorni in quel del Lungaro Ring però boh, cioè ditemi anche un po' voi cosa ne pensate di questo incidente, io sono rimasto di sasso in negativo. Voi cosa ne pensate? Scrivete qua sotto nei commenti una vostra opinione riguardo all'incidente fra Leclerc e Fettel dopo neanche un giro di gara. Per quanto riguarda il resto, purtroppo non è stata poi una gara così tanto spettacolare come quella di sette giorni fa, ma il finale ci ha regalato tantissimi temi, ma anche nelle parti centrali. Il tema principe rimane sempre che la Mercedes è la scuderia ancora una volta da battere, Hamilton oggi ha gestito alla perfezione la macchina, aveva già fatto ieri l'impresa di fare la pole position in condizioni proibitive di pioggia e anche della pista bagnata nettamente peggio rispetto alle altre sezioni di qualifica. Bottas, molto bene, è partito quarto, ma alla fine è riuscito ad arrivare secondo grazie comunque al motorone Mercedes che ha, perché insomma si stava per essere inchiappettato male da Verstappen con una delle sue difese incredibili, con la sua Red Bull, poi vabbè il motore l'ha salvato. è ancora leader del mondiale, ha fatto quello che ha potuto perché contro questo Hamilton nessuno può batterlo e insomma per Bottas ha fatto il massimo, bisogna essere onesti. I due Red Bull si riscattano invece dopo il doppio zero della gara scorsa con il terzo posto di Verstappen e il quarto di Arbon, ma Arbon veramente paga tantissimo dal proprio compagno di squadra. Addirittura in alcune circostanze è arrivato anche a circa 30 secondi di svantaggio appunto su Max, per fortuna poi Max si è fermato una seconda volta per cercare di fare il giro veloce e prendersi il punto supplementare che non c'è riuscito e quindi alla fine il distacco è quello che è di circa 10 secondi però. Arbon insomma deve un secondo andare un po' più veloce se non altrimenti Marco potrebbe fare la stessa azione che ha fatto l'anno scorso, ovvero di cambiare i piloti a stagione in corso fra in questo caso l'Alfa Tauri e la Red Bull con il secondo pilota. Per quanto riguarda Racing Point molto bene, molto bene, mi è molto appiacciuta la gara della Racing Point in rincorsa per quasi tutta la gara. Alla fine ha pagato Dazio in maniera positiva in questo caso la strategia della Racing Point, cioè quella di tenere l'assetto da asciutto e perdere un secondo ieri sul bagnato. Sono finiti entrambi in zona punti, peccatone per Perez che comunque è l'MVP di giornata perché rimontare da 17esimo e lottare per la quarta posizione è una cosa assurda e incredibile. Poi va bene, negli ultimi giri purtroppo ha avuto l'appeggio su un contatto con Albon e ha finito la gara poi in sesta posizione con l'alettone a terra leggermente danneggiato, però comunque rimane una signora gara da parte di Sergio Perez. Ricciardo mi è molto piaciuto con la sua Renault, strategia forse un pochino da rivedere nel senso che si è partiti con Ricciardo con la gomma media per poi terminare la gara con la gomma soft, forse era meglio fare il contrario, però comunque buona gara di Ricciardo con la sua Renault che conferma che è nel pacchetto di mischia per conquistare una quarta, ma anche secondo me una buona terza piazza per la Casivaca Costruttori se la Ferrari continuasse a fare schifo come ha fatto negli scorsi due appuntamenti, sia quello di oggi sia di sette giorni fa. La McLaren ieri sia l'ha fatto molto bene sul giro secco, sul passo gara deve ancora migliorare un secondo. Norris comunque conclude la gara in quinta posizione, cioè il primo degli altri, ma secondo me il primo degli altri può anche essere tolto per quest'anno. Perché comunque il pacchetto di mischia è molto ricco e il gap con i primi si sta piano piano riducendo. Vabbè con la Mercedes ce ne vuole ancora da colmare, ma con Red Bull si sta riducendo molto velocemente. Sainz si conquista il punto supplementare con un ultimo, non mi ricordo se era l'ultimo giro, ma forse il terzo ultimo giro veloce. Veloce molto buono che conferma che sotto l'aspetto della qualifica la McLaren è molto forte. In gara qualcosa di migliorare, però intanto ha piazzato anche loro le proprie due vetture in zona punti. E quindi niente, questi sono un pochino i commenti secondo me da fare in questo momento. Appena finita la gara del Gran Premio di Stiria, domani ci saranno le malapagelle appunto di questo Gran Premio dove parlerò un po' di più degli aspetti negativi e problematici all'interno della Ferrari e insomma, ecco, chi non ha visto la gara se ha un appuntamento può anche non vedere la gara e andare all'appuntamento con i propri amici perché insomma, vedere la Ferrari che dopo tre curve si ritirano, insomma, avete già capito cosa intendo. Dai, alla fine non ci vuole molto da spiegare. Iscrivetevi ancora, chi non l'ha fatto, al canale YouTube, fate clic clic clic, mettete un bel like e condividete il video con tutti i vostri amici appassionati di Formula 1, iscrivetevi alle mie pagine social Ci vediamo domani con le malapagelle, sempre qui in diretta con il Mala!